Le regioni d'Italia sono regioni d'Europa e il nostro paese non può essere lasciato da solo a gestire tutte queste emergenze. È inaccettabile questa doppia morale della Lega di Salvini e di Maroni che prima sottoscrivono trattati che ci vincono a gestire queste emergenze e poi si ne escono con misure spot.